buonasera ragazzi bentrovati eccoci su fire emblem tree houses spero che mi sentiate non sto parlando molto molto forte non voglio gridare sto morendo di caldo perché qua c'è molto 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 caldo quindi abbiate pazienza su the room spostero il microfono perché le cuffie sono quelle belle imbottite il caldo il calore allora ci eravamo lasciati qui con bail it che stava svolgendo un'indagine per capire chi potesse avere dove potesse essere finita flame o chi potesse averla rapita e le indagini ci hanno portato a sospettare del professor gherizza ovvero il belloccio con la maschera dal dal fantasma dell'opera per capire e doveva mandare a controllare i ciald oggi ma prima di fare questo nelle piccole delle piccole cose domani ci sarà ori and the will of wisp che il secondo titolo di ori alle 4 cercherò di farlo quindi cercate di connettervi verso le 4 cerco di farlo un po prima perché poi devo uscire quindi cerco di ottimizzare i tempi quindi cominceremo già quella nuova avventura e che altro vi dovevo dire mi pare nient'altro mi verrà strada facendo detto questo andiamo a consegnare anzitutto le cose che abbiamo che noi abbiamo diverse cose da consegnare questo perché abbiamo la fibbia d'epoca che è una ricca fibbia dalla foggia antiquata che momentaneamente a quanto ne so non possiamo consegnare perché ho provato a darla a tutti quelli della chiesa e nessuno ha detto sì è mia quindi ancora non possiamo consegnarla l'arte del rassettare un libro di trucchi e consigli per mettere in ordine forse di qualcuno non molto bravo a fare le pulizie io ho il mio dubbio perché se non è il potrebbe essere mariana vediamo un attimo prima consegniamo questi oggetti allora istituisci oggetto l'arte del rassettare ok prego mariana prego ok poi abbiamo bendaggio pulito una benda pulita forse di qualcuno che salta gli allenamenti chi può saltare gli allenamenti mi viene in mente solo hilda mi viene in mente soltanto hilda hilda per saltare gli allenamenti dove hilda calma c'è c'è stato un momento di defiance buonasera vale ben trovato esatto ok poi abbiamo martello e cesello robusto martello di legno e un cesello di metallo forse di qualcuno che ama la ricerca martello e cesello registro che contiene una serie infinita di numeri forse appartiene a qualcuno che si occupa di commercio e amaca consunta dagdano per dormire all'aperto qualcuno che ha vabbè gli obbiscinei sono sempre loro arrivo io e smuovo le energie esatto allora qualcuno che ama la ricerca chi può amare la ricerca mi viene in mente anne mamma ma non penso a sto punto allora ok è suo buonasera xanx ben trovato ho visto che la nostra piccola sterminatrice si è unite e ho visto il trailer di final fantasy 16 ragazzi che è state of play io non me lo sono voluto vedere in live perché purtroppo ho lavorato oggi non ho fatto ponte quindi a mezzanotte io ero già bella che nel mondo dei sogni però cacchio final fantasy 16 lo voglio ma anche resident evil 4 remake merita allora registro segreto di chi si occupa di commercio io penso anna anche se non fa parte effettivamente del ah ora ci andiamo a prendere quelle quel dialogo leon con la grafica nuova che ne pensa leon con la grafica nuova e leon e leon ragazzi nel 2 già mi piaceva un sacco nel remake del 2 devo dire ashley è stata fatta molto meglio ashley proprio almeno nella foto era un un fiorellino bellina molto molto bellina ok ok perfetto ora andiamo a consegnare l'amaca consunta dagdana dagdana buonasera ber ben trovato quella dagdana quella dagdana forse di api viene dal dagda ha viaggiato molto oddio è stata rapita vabbè ora vediamo eh andiamo all'abisso una cosa importante è che non urli lo farà magari non in quella maniera insistente magari l'hanno migliorato ma lo farà perché e canon che è una ragazzina che viene presa da dei buzzur di quel tipo cerchi aiuto e chiami l'unica persona di cui si può fidare là dentro però ovviamente la devono un attimino dosare allora inconstans von nubel forse api no yuri non viene dalla dagda però ha viaggiato sicuramente tantissimo yuri ma è di yuri se no mi viene solamente in mente baltus no è di baltus allora è sicuramente di baltus balti dimmi che è tua esatto ma una cosa importante ci sarà lo sbando mercante ci deve essere come ci deve essere comunque immagino hype per il 16 ovviamente ovviamente dudu no dudu non c'entra con questi oggetti allora risaliamo le scale abbiamo consegnato tutto quindi facciamo una bella cosa noi abbiamo ancora due eeeh due cose veyrit con chi deve fare l'amicizia con hilda andiamo a chiacchierare con hilda ragazzi andiamo a chiacchierare con hilda hilda che ovviamente entrerà nella nostra squadra è ovvio questo non sapevo che lei è l'unica attendente che si può unire alla nostra squadra eppure è così è l'unica attendente che può unirsi alla nostra squadra tra le altre cose ve lo accenno questo eeeh comprerò Fire Emblem Warriors 3 Ops quindi aspettatevi che ci sarà anche Fire Emblem Warriors 3 Ops perchè sono troppo fomentata sono troppo fomentata oltre al fatto che in un futuro prossimo perchè ancora deve uscire ci sarà Digimon Survive su questo canale sappiate dove ci sarà Digimon Survive mi mancano i Digimon ragazzi non l'avete idea allora entriamo qua dentro chiedrentre chiedrentre oh vabbè piuma di Cufo la piuma di Cufo chi è che imprega madonna mia madonna mia dove sei? qua dentro si accettiamo non ero con la testa tra le nuvole non ero con la testa tra le nuvole non ero con la testa ti voglio in azione ti voglio in azione allora mi dischi anche perchè non vuoi combattere? perchè io sono davvero che così perché se Io non te lo vorrei dire, Hilda, ma nella mia ranna dei Cervi Dorati... Sei un cavaliere viverna con l'ascia grossa, tozza. Allora, un attimino che controllo quello che avete scritto. Il gioco del gatto che ne pensa? Il gioco del gatto, sentimenti contrastanti, nel senso che dolcissimi gatti, io adoro i gatti, chi mi conosce lo sa, però il gioco non mi dice niente di che. Non mi dà quelle vibes da, oh mio Dio lo devo comprare! Ehm, no. Carino, ma... Allora, abbiamo... È abbastanza tranquillo. Hilda, senza offesa, muovi il culo. Ma se ti ho visto spaccare tre ceppi tutti insieme, praticamente, con i temibili. Stasignora. Allora, proviamo a fare un po' di corsi di aggiornamento a sto punto. Facciamo corso di aggiornamento qui. Shamir, fammi fare un corso di aggiornamento. Aggiornamento. Oppure invita per un tè. Facciamo... Ah no, l'arco devo fare. Faccio cagare in arco. Ah no, posso farlo una volta sola? Vabbè, invidiamo la perunta e facciamo un po' di carisma, va? Ah, accettate il mio invito. Va bene, perfetto. Facciamo un po' di carisma. Molto bella lei, comunque, eh. Obiettivamente, Shamir... Tanta, tanta roba. Un tempo li avevo pure gli capelli così, un tempo. Ok. Conto su di te. È un peccato che loro hanno un cambio nello skip. Eh, lo so. Non è. Ok. C'è chi non la pensa come te, Shamir. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sono stata brava con Shamir. Guardate quanto è carina. Che hai detto? Ops. Scusate, sono andata avanti troppo velocemente. Va bene, esci, va. Grazie, grazie, cara. Grazie, cara. Se fossi Bailt maschio potrei farci un pensiero. Ma... Anche lì ho i miei seri dubbi. Ok. È tempo, ragazzi. Le chiedo anche una cosa che è una curiosità che vorrei per notare. Ok. Dimmi tutto. Ha sentito qualcosa di particolare nell'audio. Nell'audio di che cosa? Di Final Fantasy XVI? Il trailer? Sì, dicevano i nomi dei cosi mentre cantavano. I nomi degli Eidolon. Poi, per il resto, se c'era qualcosa di più particolare, no. Perché non avendo le cuffie, quando l'ho seguito, è un po' difficile. Allora. Allora. Se procedi, il mese corrente terminerà. Sì, sì, l'ho notato. La storia avanzerà. Tutte le attività e gli eventi al monastero per questo mese verranno saltati. Quindi, ragazzi. Andiamo avanti. Salviamo. Ovviamente. Obviously. Salviamo. Eferida? Mago Raza. C'è un po' di più. Cerchiamo di capire cosa è successo Ok Mi sono ubriaca ragazzi Flames Ok Nel frattempo ti chiedo Tu c'eri già arrivata a questo punto Perché non me lo ricordo È passato troppo tempo Con i cervi dorati ovviamente Mi si riesce a scelgo te Con i pokemon Alla battaglia dell'apida e del leone Ok Allora No Non me lo potete Datemi dimitro Datemi dimitri I need dimitri Tu sei a livello 11 Io però non vorrei che essendo livello 11 E che quindi sei la più bassa di tutte Potresti prendere le mazzete Quindi io direi che tu vieni per ora con me Ligitia Tu vieni con me Eh ok Mercedes Felix Silvain Ingrid Yuri Ferdinand Kaspar Petra Constance E ligitia con me Va bene Va bene Va bene Facciamo un attimo di gestione strumenti Non scambia Lunguento me lo tengo Un altro unguento Te lo tieni Chiave della cassa Te serve il giusto La frangicotta Te la lascio però Lui va bene così Lui va bene così Lei va bene così E lei va bene così Lisi Puoi togliere questo Va bene Ok Mappa Allora Visto che lei Non avrà il suo Boys Accanto Loro sono vicini Va bene Ferdinand Vicino a Constance Mi sta bene Ok Confatti Sconfidi il cavaliere Infermato Sconfidi tutti gli altri nemici Tutte le tue unità Vengono sconfitte Oppure passano 25 giorni Oddio santo Va bene Ingrid ci arrivi No Ovviamente Non attacchiamo Attiviamo invece la spada d'acciaio Non sprechiamo No Non facciamo la laceraceri Attendo Non vi azzardate A toccarmi La piccola Allora Facciamo passare di qui Quindi anche Eh ok Constance von Neubel Un attimo Nostrona Te le trasporta pure te Ok Sono fatti l'uno per l'altra Ragazzi è inutile che cianciamo Sono fatti l'uno per l'altra Ok Ok I pugni nelle mani L'uomo con i pugni nelle mani Che ave porta Ok Ok Caspar One punch Caspar Esatto Allora Ha scelto la sua morte Ha scelto la sua morte Bello de mamma Quanto sei bello de mamma tu Ok Ok Tu c'hai C'hai Revisi Ci arrivi Sì Cacatte poi Ragazzi Cacatte poi Allora Constance Va E Ferdinando von Eger Se ne vanno qui Finally Ingrid Finally Ok Allora tu pigli questo Quanti d'arma rugginiti Questa lo togliamo Che cos'è Che è successo Va bene Va bene Ok Allora Tu stai qua E tu ce la fai Yes Petra cecchino Provi Va bene Va bene Fado veloce ragazzi Così non ci perdiamo in chiacchiere Baylittle 23 Guardate quanto è carina L'idea Madora Muzun No Ok Ok C'è un avanzare One punch Casper Stavolta Stavolta Non è stato One punch Però va bene Lo stesso Chiave porta Ok Perfetto E facciamo Avanzare Sia lui Che lei Assisti Lenimento Su Casper Ok Abbiamo maxato Il monaco Bene E il medico Della peste E' caduto giù Ma Ma poco Salita di poco Va bene Fatto questo Quindi Carissimo Ora arriva Constance Mon nuvole Voglio vedere Se Se gli fai La cosa Ok Allora Tu mi devi aprire La porta Avanziamo Like There's no Tomorrow Non ci arriva A coprire Lui No Non ci arrivo Mannaggia Ce l'ho sperato Ce l'ho sperato Tantissimo E tu Il momento Constance Bon nuvole Medico Della peste Esatto Chiave Della pote Bravi Very Very Good Interesting Maneuver Che significa Che noi qua Non possiamo fare Un cacchio Niente Allora Aspetta Un attimo Strumenti Ah no Chiave Porta Io posso Aprirla La porta Ok Allora Andiamo Di Sylvain Fatto Fatto Questo Tu Menni le mani Ok Tu amico mio vai dall'altro lato Tu fai Bolganone Spada Bluffete Chiave K Ah ma Qua c'era Un Ops Ho fatto una cassata Però Ok Molto meglio Ok Cominciamo a toglierci un pochino di Troppi palle Ok Che devo fare Che devo fare Che devo fare Panico 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 Paura Non mi piace Che quello Quello proprio è staccato E' spento Sto coso Ma vediamo Non so nemmeno Quanti toni Sono passati Ragazzi Io veramente Sono Dei fare Con Ingrid Petra ti prego Petra ti prego Must leave Madonna la petra Mamma mia La petra Proverai a far fuori Il cavaliere Ovviamente si Obviously Yes Devo però capire Ah no Sono turno 9 No turno 7 Turno 7 E qua c'è il cavaliere Ok Perfetto Quindi dobbiamo andare Da quella parte In realtà Ok Ok Puliamo Il nostro povero Cristo Allora Porta Telepoto Telepoto Tu non puoi attaccare Vero no Ok Quindi questo è spento Sto coso Quindi boh Petra Mannaggia Mi prendono ugualmente Vai Brava Petra Brava Petra Lui si ostina Fuggi Petra Che cos'è successo Con la leva Si 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 è azionato Allora Che vuol dire Che se n'è andato Da questa parte Boh Ora vediamo Chiave porta Vabbè Mi interessa Se è il giusto Ok Allora Orso Dunque Perfetto Questa Dovebbe essere Una regolativa Fa recuperare PS Ok No Vabbè Che tanto Felix E lo Yuri Dei Blue Lions Dei fa Allora Che dovete fare Ok Tu ti puoi spostare Perfetto Assisti Lenimento Su L'anima Pia Poi Tu Ti butti qua E lo ghilli Perfetto Tu ghilli Lui Perfetto Cazzarola C'è un'altra leva Lì Ora vediamo Che fa Ora vediamo Che fa Puoi aprire La porta Constance Von Neuvel Sta ferma Lì Si stanno Innamorando Quei due C'è dell'amore Percepisco Dell'amore Ok Curiamo Lui Merci Al 23 Cacate 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 Allora Qua ci vuole Il danzatore Ragazzi Sciarrugginite Vabbè Sto cercando Di prendere Quelle casse Perché non so Che cosa Contengono Spero Di riuscirci Anche se Poi i turni Passano inesolabili Lo lasceremo Vivere Per ora No Ho fatto Attendi Dovevo Trasportarmi Ho fatto La caffata Oh Oh Finally Tu sei Dove devi Essere Finally Allora Vai Sylvain Tu accalca Di qua Chi manca A muoversi Chi si deve muovere Più Ah no Felix e Sylvain Rimangono fermi Va bene Ci provano Aio Che significa Che significa Che significa Non mi posso Trasportare Ah perché C'è lei Qua davanti Forse Quindi non mi potevo trasportare spada folgore si adoro la spada folgore la spada folgore cacchio torno 12 a ci arriviamo dai siamo comodi siamo veramente veramente comodi è che se io metto lei me lo attaccano tutti qua no invece no arigatona è in realtà questi li potremmo anche spandare perché tanto poi c'è più questo mauro da così per gradire fine direttamente da awakening esatto dai che è quasi maxato anche la classe forse dai che è quasi maxato anche la classe te le trasporta perché la non ci posso andare a non mi fa proprio te le trasportare vabbè ok perfetto vabbè attendi constans von ruvelu strumenti usati un uguento per favore amica mia va bene con la monza ok yuri please come back to me e va bene così si me lo ricordo l'obiettivo che ammazzi il cavaliere tutti gli altri di fatti sto cercando di non ma non ammazzare tutti dai ci siamo ci siamo allora però questo è pericoloso magari quest'altro un po' meno no però questo è pericoloso ok 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 in realtà c'è anche questo vabbè che tanto un po' di gloria a ferdinando per forza date un po' di gloria a questo uomo strumenti un guento perfetto cominciamo a buttarci tutti da questa parte eh così cazzarola ok tanto non ci arrivava va bene chi manca più ah no lei dai che ci siamo ragazzi cassa anello marcia eh giustamente ho sbagliato vabbè che tanto ok allora bail it we must go bene bene turni rimasti 9 ce la facciamo in 9 turni ragazzi in 8 ok ok allora allora avanziamo let's avanzare avanziamo avanziamo dovete avanzare tutti dovete avanzare tutti constance voluvel nooo ha il contrattacco lui merda merda lui ha il contrattacco meglio attaccate Ferdinand per favore please attaccate Ferdinand please attaccate Ferdinand concentratevi su di lui ok 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 vediamo come sette turni dai ce la possiamo farci bene bene bravo che tu ti sei spostato in questa maniera bravissimo ok ok allora it's time vediamo interesse in maniuvera allora aspettate facciamo così va non è non possiamo farlo dobbiamo proprio avvicinarci per poterlo fare però lei ci arriva comunque si lei ci arriva comunque allora ragazzi saranno Yuri e Belit a finire questa battaglia saranno Yuri e Belit voglia i danni e così e così peri il cavaliere oscuro cavaliere infernale mi dispiace c'è sempre l'isitea c'è sempre la sua nemesi che la ammazza eh vai easy effe il cavaliere infernale abbiamo preso il sigillo oscuro per questo ho voluto farlo perché voglio i sigillo oscuro sentiti fortunato che non ti ammazza la nostra piccolina no ha preferito controllare dietro la sensei non 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 E che io so chi sono entrando Lodea? Vabbè, è abbastanza scontato. Buonasera Neko Shan, ben trovata Wow Vediamo un po' Sul serio Mercedes? L'avevamo quasi preso Ah, fuoricino C'è un po' Questa? C'è un po' Purtroppo ho la risposta quindi non ti dirò sì o no Sono solo felice che il Flame sia salvo Ma perché è stata rapita? C'è un po' 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 Perché no? Con molto piacere Bella domanda Sotis C'è un po' C'è un po' C'è un po' Monica è un po' È un po' Ma Ed è ancora viva, dopo un anno Ho, 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 ho Grazie a tutti. Verrai alla battaglia dell'Aquila e del Leone? Scusate ragazzi, adesso dovreste sentire bene. Perdonatemi, il microfono è andato a prostitute. Mi sentite bene adesso? È rientrato l'allarme? Ci siamo? Siamo tornati? Perdonatemi ragazzi, di tanto in tanto adesso il microfono dipende così. Ma è il jack, non è proprio il microfono stesso. Allora, mentre sono impantanata qui... Allora, leggo il messaggio di... Addone di alta distocrazia borghese, esatto. Comunque, Xanx, ho appena letto il tuo messaggio. Ti posso solamente dire che ci hai preso per metà. Non ti dico altro. Allora, dovrei cercare in questa stanza in ogni angolo, dietro ogni scaffale, lascerò qualcosa di vedere. Lo prometto. Tu sei simpo, papi. Ma tu sei simpo, papo. Ma tu sei simpo, papi. I figli sono i figli di casa. Non si può essere, ma chi 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 si può essere. Quindi Vale, tu ti sei fermata a questo mese. Alla battaglia dell'Aquila e del Leone. Quindi da questo punto in poi, tecnicamente, dalla prossima battaglia, sei blind. Pure tu. Grazie, mi danno i sordi. La battaglia dell'Aquila e del Leone? Illuminami l'immenso. Sì, certo. La battaglia dell'Aquila è la battaglia dell'Aquila, Gronders-Hagen. Alla battaglia dell'Aquila. Non è un'eserlo, non è un'eserlo, non è un'eserlo. Ma se non si può perdere, non si può perdere. Allora... Glondar's giudizio. Noi sono nonostante. Perchè, non pensi semplice. È proprio quello. In questi ultimi anni, noi abbiamo anche insegnato. Ma se sono l'unica insegnante presente? Non ho capito il perché gli è calato la cosa Perché se sono l'unica insegnante presente È normale che si trovano un pochino più in difficoltà In questo rapporto sono inclusi i progressi del mese precedente Ah, ok Yeeeh Tutti che apprendono Ok A posto? Bravi Ferdinand e Ingrid hanno svolto l'attività pattugliamento aereo per tre settimane La spada della creazione è stata riparata e adesso ha la durabilità pari a 20 Ok Allora, ovviamente faremo esploro Guerra per i deboli Guerra per i deboli Dimenticati voci di nozze e la spada e la scusa di Seiros Alto e l'inferdonabile Sono tutte missioni Sono tutte missioni E poi c'è la battaglia dell'aquila e del leone Ok, allora io direi che facciamo l'esploro Arriviamo dove arriviamo e ci fermiamo Vediamo se l'esame lo può fare qualcuno Mi apro un attimino il documento Fire Emblem Fire Emblem Vabbè, lei Lei effettivamente potrebbe già diventare qualcosa Cura ci sta per lei comunque Ci sta per lei la cura Il fatto che apprende cura E cura magia bianca più 5 E tanta tanta roba Perché se no questo Mobilità è schivata Però vola ancora Lo faccio Tanto meno lo stesso Anche da sacerdote, tranquilli Passiamo alla nuova classe Felix No, Sword Master deve diventare E ancora non ci siamo Asce non mi interessa Silvaine Debbe diventare Cavaliere Ma ancora la corazza Non l'ha fatta Quindi dobbiamo fargli fare Ascia e corazza Allora gli facciamo fare un po' di asce e corazza Silvaine Me lo segno Me lo segno Aspettate Ascia Corazza Ok Mercy Deve diventare un bishop Che però non può diventare E che ancora Fede non ce l'ha Cioè potremmo anche rischiare il sigillo Ma per il momento lasciamo le cose così come stanno Ingrid Ingrid Deve diventare un paladino Cosa che non può diventare Perché ha bisogno dell'equitazione B Ora gliela faremo fare Ferdinando Ferdinando Da nobile a soldato Che ha fatto Perché questo è il soldato Perfetto A.knight Che cos'è? A.knight Attacabrighe Possibile A.knight Sei sicura che lui la deve fare corazza? No Berre tu penso che lo vuoi Armored Knight Ok Penso che lo vuole Cavaliere Viverna Quindi Dobbiamo passare dal Cavaliere Viverna Noi Quindi tanto vale Intanto che gli facciamo fare il fantino Così prenda la mobilità So che non può fare altro in realtà Gli facciamo fare il fantino Yes conferma Allora facciamogli fare il fantino Gli mettiamo l'ascia E gli facciamo fare intanto il fantino Prendiamo un po' di mobilità Si passa la nuova classe Caspar Vabbè Caspar rimane così Petra Petra rimane per il momento così Raffaello L'isitea per il momento non può fare altro Marianne non mi interessa Non mi interessa Yuri Dobbiamo migliorare un po' l'arco Yuri Me lo segno Yuri arco Yuri Arco Constance Vabbè lei deve diventare per forza monaco Da monaco La facciamo diventare Mago Anzi lei può diventare direttamente mago Quindi quasi quasi Gli faccio saltare il monaco Abbiamo solo un sigillo intermedio però Non lo sprecherei Non lo sprecherei Facciamola diventare monaco Perché è rosa E basta Esploro Ok Esploriamo Ok Terremo conto di questo Ovviamente La prima cosa che facciamo Come sempre È scendere nell'abisso E andare a salutare i ragazzi Torneo di spada Dal sigillo intermedio Cosa che faremo? Il sigillo intermedio È tanta roba È tantissima roba È tantissima roba Ok 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 Va bene Poverini No Non voglio parlare con te Ok Ok Va bene Stiamo crescendo bene In forza In salute Balti Balti Beh 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 Devo dire che lui Devo dire che lui Con i muscoli È messo bene È ben piazzato Baltus Ora tutti gli anziani Me li immagino Con la voce del maestro Dei cinque figli Ok 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 Qual era la tua casa Vedete perché è figa La casa dei leoni Perché c'è anche lui C'è anche Yuri Nei leoni blu Allora Discarica Che cosa troviamo? Spada di ferro E ascia di ferro Vabbè Niente di che In realità Allegri api Ovviamente Molto allegri È brutta cosa questa però Non è stato un bel dialogo Questo Avanti Saliamo E andiamo ad esplorare Il resto Andiamo ad esplorare Le superficie Sì Andiamo al monastero We must Esploro Il monastero Ci fermiamo Come sempre All'esplorazione Così poi Prossima volta Facciamo la battaglia Dell'Aquila e del Leone Che vi preannuncio Avere la host Più bella Di Fire Emblem Per quanto mi riguarda Io adoro La host Della battaglia Dell'Aquila e del Leone Adoro Detto questo Cominciamo All'Explodo Facciamo da qua sopra C'è una Hilda Selvatica Ora che mi differenzata C'è un po' di Ilda! 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 Mia Ilda! Oh yes! Oh yes! Corregi di esclusa God Shattering Star. Mi piace di più quella dell'Aquila e del Leone, quindi non mi correggo. Oddio, che inquietudine! Non mi interessa, non le ricompenso. Tu sei viscido, Cristo Santo. Lettera per Rea. Una lettera apparentemente destinata a Rea. Forse di qualcuno che ha un profondo legame con Rea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, hanno detto parecchie cose su... su Geriza. Sappiamo che è il Cavaliere Nero, perché ci l'hanno detto. Sappiamo che fa parte dell'Impero. Sappiamo che è stato adottato da un'altra casata. Io, fossi in voi, mi farei due conti. Aviso. Segnare èamanca, dove si possa fare un'altra casata. Soprò di Falsiasa e se le trattano. Un'altra casata. Unaση che ha anche da un'altra casata. Che, è un'altra cosa, ma e ora è un'altra. Non mi interessa, noi prie voglio che è venire il nostro libro. Questa, ha fatto un'altra cosa? oggi c'è il torneo di spada, vabbè ti piace vincere facile? poi povero ignazio, favolo dejakal ma perchè? Come sto godendo Questa è la guarda rallenti Yes No No Ma no No Ma perché è Claudine In un torneo di spada Mostro per aver ucciso Edergard Chiudete gli occhi Devo vincere il torneo ragazzi Mi dispiace Per cla- ah ok Eh per claude ho pianto pure io ragazzi Beh dentro di me ho pianto Però dovevo vincere questo sigillo Era necessario vincere questo sigillo Ushiyumu E shatiyumu Student Doggo catticrassi esatto Anche i kufi ci sono Anche i kufi Andiamo da La nostra Bernadette Il nostro topo Perché non si possono Appettare gli animali Perché Eh Eh Non credo che i nobili possano assistere Topolino vieni No Non è ancora Il tempo Arco Dobbiamo fare l'arco Facciamo l'arco E' tempo di fare l'arco L'insetto Ok Vabbè Noi andiamo a raccogliere insetti Per il mondo Facciamo l'arco Spendiamo i nostri punti Bene Bene Bernadette Se la prossima volta Non ti unisci Ti killo Eeeh Allora Mi pare di aver visto Un oggetto qua Ok Non ho visto che cos'era Perché sono stupida Lo controlleremo Dì sì Una pietruzza Screziata Strisce colorate Forse appartiene a qualcuno Che colleziona pietre E non ho idea Di chi possa essere Ragazzi Andremo a tentative Siri Ti piacerebbe viaggiare Per il Fodlan Un giorno Ok Secondo me è sua No E invece no Forse di qualcuno Che ha un profondo Legame con Rea Allora a sto punto Sete Vogliamo usare la serra Sì Raccogli Ok Sì Sportiva Va bene Strumenti Prendiamo quello che abbiamo appena coltivato Che cos'è La magia Sì Aumentatemi la magia Parteciperai anche tu? Ok Ok Vabbè C'è quel quadra Qui non c'è niente Ok Andiamo C'è la asce qua fuori Ok 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 Ignazio Ignazio Ti detesto Ti detesto Tra le altre cose Ho visto appena appena adesso Una bella zanzara Che se non morirà entro stasera Io non dormo E la cosa non è buona Eh Tocca ammazzare la zanzara Sì Eh La ucciderò Ok Benvenuta al torneo di pesca Se catturi il tipo di pesce che vuole Flane Vinci un premio Se vuoi partecipare Fallo Se no Fai come ti pare Ok Esca da torneo Ok Lo facciamo per ultimo Il torneo di pesca Perché se no Non ci spieghiamo più Ok 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 Realità due o più stelle Che pesce vuole Eh Allora Tre o più Ok Ok Ah Lo is Ok 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 Le te urla spaventano i pesci Il tono più basso, ok 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 Però prima di fare qualsiasi cosa Dei banditi stanno portando scompigli a un villaggio negli intorni Normalmente interverremo in aiuto Ma siamo occupatissimi con la faccenda di loro Non lo nato Troppa gente da aiutare, troppo poco tempo Come si fa? Ci vediamo Piantone Non credo I don't believe it Va bene Ok Ceci E una rapa Semi di moffis Acciaio, ok Vedi la missione Sembra che sul campo di battaglia circolino oggetti rari Questo lo sappiamo Accetta Ovviamente abbiamo raccolto già gli oggetti Abbiamo preso il talisman Questo significa che giustina unita strumenti Strumenti Usa Il talisman Che fa Due La resistenza Usa Ok Ok Fatto questo Facciamo il giro esterno intanto Intanto lo giro esterno Chi c'è qua Oh Hmm Ok Andiamo da questa parte Ok Sylvain Ovviamente Non è per questo che si combatta Ok Ma io ti posso fare un regalo Te lo posso fare un regalo Una rosa Va bene Dudu Va bene I cavallieri del sacro regno del Fergus Cercono qualcuno capace di addestrarli Quello è un corpo di gente dura Però secondo me voi riuscirete a dar loro del filo a torcere Ok Va bene Andiamo sopra da questa parte Facciamo sempre il giro esterno Poi andiamo all'interno Chi c'è Guardate chi c'è Chi se lo ricorda Conoscevi mia madre Chi c'è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Per procurarvi dei fiori da portare alla sua tomba sarebbe contento di sapere gli raccolti per il tuo. Ma giusto perché è mia madre, non per te, amico mio. Ok. Andiamo intanto da questa parte. Chi c'è qua? Dove è Dorotea? Dove è Dorotea? Non l'ho vista. Ah là, non la vedevo. Vi apro tutti, vi apro. Molto. Maffanculo anche te. Carisma e comando. Comando volei, comando. A vera. Altro no Andiamo dai mitici Oh Claude C'è chicco di riso da qualche parte No c'è Marianne Ok Non vuoi partecipare? Non vuoi partecipare Ma non vuoi partecipare Ma non vuoi partecipare Ma non vuoi partecipare Ma non vuoi partecipare Ad Voglio vincere questa battaglia Eh Claude mi sa che sto giro Sto giro è nisma Nisba nisba Linhart Pensavi Sei venuta all'accademia Per rilassarti Ok Ok C'è un oggetto Bene Scientiumo C'è un oggetto C'è un oggetto Ok Ok Guarda Guarda chi c'è Chicco di riso C'è un oggetto Tu sei il primo Tu sei il primo che apro Vabbè Vabbè Allora Allora andiamo qua Eh scusate Chi ho mancato qua Sono troppi Ingrid ci ho parlato Ho visto chi è Ma qua nasce ci ho parlato Ah la cara Possiamo mandarlo a pochi ricesse C'è un oggetto C'è un oggetto C'è un grosso amore Per chicco di riso C'è un grosso amore Per chicco di riso Allora Allora Perchè c'è qualcuno ancora Con cui parlare Ah Ah vabbè Parteciperà al torneo Senti Ok Va bene ok Non lo posso reclutare ovviamente Va bene Eh Manca qualcuno Che è qua sopra Scusate il giramento di testa Ah ok Partecipo anche io Perchè i miei allievi vi aprono E anche tu sei una mia allieva Quindi sta zitta Andiamo là sopra Il torneo di pesca lo facciamo la prossima volta ragazzi Già sono a 23 Io purtroppo accuso un po' la stanchezza Quindi facciamo il giro del monastero E ci fermiamo Il torneo di pesca sarà la prima cosa che facciamo Alla prossima live Grazie mille Questi erano i suoi fiori preferiti Poggiandoli sulla sua tomba è come Se non avessi più rinfiambi Grazie 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 E' scomparso Ho sentito chiaramente la frustra Leoni scappa molto lontano Esatto Esattamente Allora Saliumo Ok 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 Dobbiamo fare con questo I miei problemi si risolverebbero facilmente con i soldi Quindi il mio vero problema è che non ho soldi O forse ho le mani bucate Parla con quella mercante che promette grandi guadagni Neh Ho trovato un bellissimo dipinto in una bottega in città Ed è un peccato tenerlo tutto per me Se conoscete qualche amante dell'arte qui a Gary Mack Mandatola a me Forse Hubert No Difficili questo Mi sono ricongiunta a mia figlia dopo tre anni ma fui io ad abbandonarla Ora non so come cosa dirle e come trovare le parole giuste Sia un padre affettuoso le cose si aggiusteranno Ok Allora facciamo anche il coro eh Allora facciamo un po' 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 Ok Merci A cosa pensavi? Mh Mh Merci Oh merci Oh merci Ricettario per biscotti mi sa che è suo Allora Prego merci Prego merci Sì Devo uscire fuori? Sì mi sa di sì Vi dispiacerebbe consegnare questa lettera d'amore al posto mio il destinatario è valoroso ha un sorriso affascinante mette sempre la famiglia al primo posto Ok Ok Ah lo iso vabbè Ok Ok Mh Abile con l'arco Vabbè questa è di Shamir Non penso che sia suo penso che sia di Ra questo Lettera per Ra non è suo Vabbè Saliamo Allora scusate ho dato un colpo al microfono vi chiedo perdono Allora Cambiamo quasi finito eh Sono e trenta Grazie ho sbirciato Alois mentre legge la lettera e a quanto pare sono riuscita a farla rosire Hihihi No 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 sei brutta amica mia però Mi sa che è Felix ho l'idea che potrebbe essere Felix se non era al campo marzio Ebbè 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 Rea ciao Rea ciao Ma certo Ebbè 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 Che cosa? Che cosa? Che cosa? L'ok è L'ok è Ebbè Va bene, andiamo da questa parte. Ma questo dice sempre la stessa cosa comunque, eh? Mi dà fastidio sto NPC, bruciatelo. Brucia, strega, brucia. Geraltosama. Mi troppo vuoi piuberti. Ok. Andiamo qua? C'è il loro benigatto? ok forse è meglio lasciar perdere ok allora diciamo che andiamo a mangiare al refettorio aspetta ok ci portiamo a Dimitri e e Yuri perché si oh yes poi facciamo tra la mela facciamo un po' di cucina ci portiamo a Mercy e e facciamo PSP3 perfetto e poi facciamo il coro vediamo se Geralt mi da il comando mi aumenta il comando yes anche se il comando già sono messa bene raga mi sembra strana sta cosa che vuole ancora il comando eeeh vabbè andiamo a fare il coro eeeh vabbè andiamo a fare il coro qualcuno che non abbiamo è difficile Dorotea e Bernadette dai eeeh oh per poco per pochissimo allora possiamo scendere qui vediamo il dialogo e ci fermiamo ragazzi eh sono due dialoghi con chi c'è il sostegno scusate con Mercy e con Dorotea allora facciamo così invece vediamo eh vediamo eh che schifo che schifo carpa piccola uh ok ok aringa di ebe quello che è io penso che già questo basta ok 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 perfetto 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 va bene vediamo se è questo vediamo se è questo io penso di sì però il pesco è finito e il Fendi sembra molto contento e di certo anche se il terzo sarà lieto ok ok è finito il torneo di pesca va bene ok l'abbiamo fatto il torneo di pesca pensavo ci fosse di più va bene va bene va bene quindi quindi le esche me le avete tolte tutte immagino suppongo quindi le esche me le avete tolte tutte immagino suppongo esatto esatto facciamo questi questi pochi cosi così poi prossima volta facciamo cose più interessanti ok 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 così aumentiamo anche il livello docenza perfetto perfetto dai dai aumentiamo il livello docenza un carassio esatto caro carassio mi hai fatto fare il livello docenza tecran tal25 hai failed dai mancano due lombrichi ce la possiamo farci che ho fatto lMo va bene no pesca simulator sono stanca ragazzi si vede da queste cose che sono stanca va bene allora chi me la può fare la corazza forse amico mio qua abbiamo già tutto abbiamo già tutto in realtà quindi dov'è Dimitri? lo saremo Dimitri aspetta che parliamo anche con Dudu ok chi vuole parlare più? Claude perché Claude vuole parlare? mio re scusate era una sbagliata ok facciamo l'ultima cosa e ci fermiamo ragazzi andiamo Dimitri una bella camomilla che ci fa bene il futuro del Fodlan ricordi quante risate nell'ultima battaglia ok va bene ce l'abbiamo fatta quanto sei carino quanto sei carino pure tu però cioè prendi molti più punti quando diventi un barbaro però va bene andiamo fatto no non mi dispiace affatto Dimitri vieni quando vuoi vieni quando vuoi amico mio e in tutto questo il sostegno è aumentato? no ancora no va bene ragazzi io direi che noi ci fermiamo proprio Quane perché perché si ci fermiamo qui noi prossima volta guarderemo questi due dialoghi e andremo a finire la giornata e a fare le missioni secondarie vi ricordo che domani la live potrebbe cominciare alle 4 e non alle 4 e mezza perché cercherò di farla un pochino prima visto che ho la disponibilità per poterlo fare e poi dovrò uscire quindi alle 4 4 e un quarto ci sarà Ori e The Will of Wisp quindi il secondo capitolo di Ori con Fire Emblem invece ci vediamo la prossima volta quindi vi auguro una buona notte vi ringrazio per essere rimasti con me un bacione buonanotte